Musica Scusi posso chiedere una una telefonata che mi sono perso? Sì Vi dico il numero? Sì grazie 333 2 e 3 Grazie mille Scusate ragazzi, se posso chiedere velocemente una telefonata che mi si è spento il telefono, mi devo far venire a prendere. Grazie gentilissimo. Sì, sì. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.